Invece senza speranza, la nebbia è arrivata anche qui, nell'aldilà, per questo voglio presentarvi il capitolo Fog, la storia di una cittadina in riva al mare investita da una strana nebbia e non solo da quella, questo film è dedicato a tutti quelli che tra di voi hanno il detto, tanto fumo e poco arrosto, ma se per caso anche da fuo c'è un po' di nebbia, non preoccupatevi, Zio Tibia vi proteggerà.